La panchina della Juve Le proteste della panchina della Juve hanno fatto annullare il gol Non c'è altro Non cerchiamo altri discorsi perché non ce n'è Tutto qua Quindi come si può giocare in queste condizioni? Non lo so Perché ci può stare l'errore dell'arbitro Ci può stare l'errore del guarderino L'abbiamo sempre accettato Sempre Anche se questo è il terzo, anzi il quarto Parma, Bergessio, Inter, San Siro L'hanno detto tutti Anche purtroppo il giornale importante Che era il rigore Oggi due episodi No uno, due Uno scandaloso Che è quello del gol annullato a Catania E l'altro Della Juve in fuorigioco Lo stesso guardaline Guarda caso Non lo vede Purtroppo la nostra panchina era lontana Non siamo potuti andare a protestare con l'arbitro Ma credo che alla fine Anche se avessimo protestato A noi il gol non l'avrebbe annullato La Presidente è una squadra come il Catania Una società come il Catania Che ogni giorno ha Da Bilancio Budget Ogni giorno combatti con queste cose Per poter allestire una squadra competitiva Che comunque possa Anche risultare In un campionato vicino Anche a queste squadre importanti Cercare di combattere Oggi l'avete vista tutta la... Ma come fa? Come vuoi che faccia? Ma come vuoi che faccia? Oggi avete visto tutto quello che è successo Abbiamo fatto una gran partita Ho fatto i compendi da ragazzi Che abbiamo giocato Veramente bene E alla fine tu Gli episodi che sono fondamentali In una partita Lì Succede quello che è successo Basta è finita No sono stato anche espulso Dall'arbitro Proprio in conseguenza Di queste persone che ho qua Gli ho detto Mi devi chiedere scusa Due volte oggi La prima per il gol La seconda perché mi hai buttato fuori E anche la terza perché hai dato il gol Alla Juve Perché dice Ho applaudito Che cosa devo fare secondo voi? Bravo Cosa gli dovevo dire? Era al minimo Fare un applauso Mi ha fatto anche tutto il pubblico Tutto il pubblico ha applaudito Le grandi dimostrazioni Di capacità professionale Dell'arbitro Ma non solo Anche se devo dire A onore del vero Che l'arbitro il gol l'aveva dato Quindi voglio dire Non è che poi si può Presidente scusi Prego Ci può spiegare Visto che Lei diceva che Guardalini in alto Non hanno validato Cosa gli ha detto dopo? Perché è stato nomato il gol? A me ha detto Mi ha detto solo Mi dispiace Ho sbagliato Ha detto solo così Non so No no Hanno sbagliato Tutte e due Hanno detto Mi dispiace Guarda Guarda La decisione L'ha presa la panchina Della Juve Chiedete a loro Chi è che ha annullato il gol Io non lo so Non lo so Ma guarda Non mi venite A raccontare storie Non mi venite A raccontare storie Allora Rizzoli è un grande arbitro Io non credo Che Rizzoli Possa dire Se quell'azione In fuori gioco Perché Rizzoli Non è un arbitro scarso L'arbitro di linea Non può mai intervenire In quella posizione Mai È messo Dietro la porta Non può mai vedere Se è fuori gioco Quindi Spiegatemi E fatevi spiegare Quelli che verranno dopo di me Che sono più bravi di me Per quale motivo Anzi no Fatevi spiegare Come hanno fatto Perché sarebbe anche da capire Bello sarebbe Capire come si fa A annullare un gol Perché se noi vediamo Che il guardalino Non lo so Che l'ha presa Io non lo so Che l'ha presa Ho visto Che è stato annullato il gol Dopo 40 secondi Di discussione Ma poi Chiaramente L'arbitro È andato È andato È andato nel pallone Perché l'arbitro Si è accorto Poi è successo Che si sono accorti Che il gol Era irregolare Di due metri Cioè Hanno poi La partita È stata Così Ma non lo ha dato Il regolo non l'ha dato Ha ammonito Sette giocatori Ha espulso Marchese Per un fallo di mano Non ha espulso Vidal Per lo stesso motivo Non l'ha riammonito Di nuovo E ha espulso Ormai Non c'era più Hanno dato il gol Della Juve In fuorigioco Netto Netto Tratto su un'azione Molto facile da leggere Quindi non diciamo storie Però Questo fa parte di un errore E ci può anche stare Ma mi devono spiegare Come ha fatto La panchina della Juve A far annullare il gol Me lo devono spiegare Qualcuno me lo deve spiegare Provate a chiedertelo A chi? A qualcuno No chiedertelo voi Io che cosa gli devo dire Presidente Questa designazione Era secondo me strana Sì dall'inizio Perché è un arbitro che non ha mai diretto la Juventus fuori casa Ma ha sei precedenti con la Juve Tutti quanti in casa Forse comunque non è pronto a dirigere una partita che comunque si preannunciava una partita Questo non lo so Questo non lo so Questo non lo so Perché Gervasoni è un arbitro bravo Però evidentemente È successo qualcosa in quell'occasione Non so che cosa è successo Spero che sia solo sudditanza psicologica Mi auguro Per tutti noi Per quelli che vediamo nel calcio Alla fine poi ci diciamo sempre Quali saranno i passi successivi E poi ancora Quanto costerà questa sconfitta al Catania? Adesso noi dobbiamo ancora tenere presente Che non si va a Udine senza le grottaglie Marchesi Lo so Ma questo diciamo è un discorso che fa parte del gioco Noi abbiamo una squadra Un gruppo importante Oggi avete visto È stato l'esordio di Rollin Che mi pare che ha fatto anche abbastanza bene Quindi abbiamo I giocatori che possono essere nelle condizioni di costituire i due che sono squalificati Ma queste sono cose che fanno parte del gioco Dico Tu puoi perdere con la Juve Cioè non è una cosa scandalosa Cioè hanno 48 Da 48 voi sono imbattute No? Imbattuti Certo Così facendo Possono durare a vita Possono essere imbattute a vita Cioè nessuno mai le può battere Cosa? Che cosa si deve fare in federazione? Cioè l'hanno visto tutti Io mi auguro che chi di dovere intervenga Intervenga e si faccia spiegare perché la panchina della Juve ha annullato il gol Si esasperano ovviamente gli anni C'è stato un pubblico comunque che ha dimostrato Il pubblico è stato eccezionale La correttezza incredibile Che ha anche applaudito anche ironicamente Quanto è successo in campo Il pubblico è stato eccezionale E gli faccio complimenti Così come è eccezionale sono stati i ragazzi Perché credetemi non è facile Arrivare negli spogliatoi Dopo il primo tempo E avere Cinque ammoniti Un gol annullato regolare In una situazione che non è facile Siamo entrati in campo a secondo tempo Abbiamo giocato la partita Volevamo vincerla Poi abbiamo preso il gol in fuorigioco Va bene Potevamo anche pareggiarla Però ripeto Io non ho nulla da rimproverare ragazzi Hanno dimostrato Oltre ad essere capaci Un grande temperamento Perché non è facile Subire queste cose E stare tranquilli Quindi tutto sommato Devo dire che sono stati bravi Presidente Lei Altre intervento Della panchina della Juve Ha sentito qualcosa Ha notato qualcosa Ha sentito qualche parola In particolare Io Ho visto che lei era porto campo Per colpa Per sfortuna sua L'hanno dato Per sfortuna sua L'hanno dato Tutto il mondo Non io Tutto il mondo Ha notato quello che è successo Non sono stato io È successo che Il segnalino Mi ha dato il gol È stato È stato affrontato Da qualcuno Della panchina Non so chi Andate a vedere le immagini Non so chi è Che l'hanno bloccato L'hanno bloccato Non lo hanno fatto andare Verso il centrocampo E il segnalino Poi hanno dato il gol Cioè questo L'hanno visto tutto il mondo Per vostra sfortuna Ci sono le telecamere Quindi Andate a vedere le immagini E credo che parlino In maniera molto chiara Eloquente Presidente Arbitri non abbastanza preparati Anche a tutto questo O Catania Eccessivamente penalizzate Arbitri preparati Io ripeto Torno sullo stesso tasto È la terza volta Che succede un episodio Gravissimo Nei confronti del Catania Io voglio sapere E non abbiamo mai parlato Non abbiamo mai detto nulla Perché ci può stare Io voglio sapere Perché la panchina Della Juve Ha la possibilità Di annullare un gol Io lo voglio sapere Qualcuno A questa domanda Deve rispondere Ora vi saluto Arrivederci